il comandante Brantwer e il personale di Brantwer per ricevere 4 autos con il servizio di Brantwer nel periodo di noi il Brantwer ha una posizione molto importante per la sicurezza del nostro paese la sicurezza nel primo luogo di persone con un altro artefacto di un'animalità e per arrivare qui ci si può arrivare a seca gente il materiale che noi abbiamo adquire è un materiale che va di condizione complica c'è un'unica difficile, un maltempo ma poi ecopi cerca di stanno come se prende il servizio ogni 4 anni si contrattano con il governo con il compagno della Cava è un anno che trova la nostra scuola è il miglior lavoro con il Brantwer è un certo e qualsiasi chiusura a prendere, di un buon place di acqua e si può chiedere in un'area in un'animalità di Aruba e quindi noi ci si può dare il servizio comunque lo schiavo e che ora lo schiavo Grazie.